Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video all Yves Rocher. Allora, sono stata finalmente dalla parrucchiera, come potete notare, e ho cambiato colore, li ho fatti molto più chiari rispetto al solito. Voi qua li vedete ancora più scuri di quello che sono realmente, ma contate che sono più tendenti a quello che vedete sulle punte rispetto a quello che vedete qua. Non so perché in fotocamera qui sembrano più rossi, però sono più ramati che rossi, ok? Ho fatto un rame un po' più chiaro, con le punte ancora più chiare, quindi un colore bello estivo, appunto, per evitare di fare effetto, si è sai, scena del crimine in piscina quest'estate, perché noi monteremo la piscina qua in terrazzo, e se ci entravo con i capelli rosso fuego, tempo zero, facevo appunto effetto scena del crimine. Quindi abbiamo risolto facendo un bel rame chiaro, e devo dire che mi piace tantissimo, lo adoro. Ho anche spuntato un po' le punte, ora vabbè, con i boccoli non si nota quanto ho spuntato, però ho spuntato tipo tanto così, e ho tagliato la frangia. Detto ciò, chiudo perché non voglio parlare oltre, perché ho due ordini vroché di due, appunto, album differenti, album 6 e album 7, da farvi vedere. Quello 7 è arrivato ieri, no, scusate, 5 e 6, sì, 5 e 6. Il 6 mi è arrivato ieri, quindi ho detto, faccio uno l'unico, visto che avevo ancora l'altro lì che aspettava. Parto appunto con quello precedente, che è lui, infatti l'album in questione era questo, tutto scombinato, stropicciato. E vi faccio vedere cosa ho preso da quell'album. Allora, ho preso il bagno doccia, nella versione 200 ml, e ho preso il mango e il coriandolo, che io amo, perché ho provato il detergente per le mani, me ne sono innamorata, e quindi ho detto, no, voglio assolutamente anche il bagno doccia, però li ho presi un po' più piccoli, perché così non mi annoio. E poi ho ripreso invece il rosberry peppermint, che dovrebbe essere frutti rossi e menta, se non erro, che anche questo mi è piaciuto tantissimo. Poi ho preso per l'ennesima volta il mio bifasico, che ormai lo sapete, lo amo alla follia, e l'ho preso anche questo qua, che non l'ho mai provato. Lo struccante è delicato, però chi è sensibili sempre al fiordaliso, ho detto, perché no, proviamo anche lui. Poi ho preso due prodotti per capelli, allora ho preso lo shampoo densità e volume, perché appunto volevo provare a vedere se effettivamente mi dava un po' di volume alla chioma, visto che non è che abbia quei quintali di capelli, allora ho detto, magari volumizzandoli un po' risultano più belli, e poi ho preso il balsamo di stricante, riparatore, che per le mie punte secche direi che è una mano santa. La novità dell'album 5 erano i correttori, è uscita una nuova linea di correttori, che è questa qua, ora ve li faccio vedere meglio. Comunque, tonalità, allora, ci sono 15 tonalità, mi dà come dati risultato naturale luminoso, nasconde i segni della stanchezza e le imperfezioni, texture liquida ad alta concentrazione di pigmenti. Ti confermo tutto, perché li ho provati su di me, li ho provati sotto il sopracciglio, perché sapete che io i correttori li uso praticamente solo lì, per cancellare il tatuaggio, devo dire la verità, mi è durato tutto il giorno, assolutamente come il mio famosissimo mark, che mi vedete sempre utilizzare. Quindi, devo dire, mi ci sono trovata molto molto bene. Ho provato per il momento il numero 100 beige, che è la mia colorazione, diciamo, di tutto l'anno, ma ho preso anche il 150, che è un pochino più scuretto, per quando sarò un po' più abbronzata. Mi piace anche tantissimo il packaging, devo dire la verità, è bellissimo. E quindi questi sono i prodottini presi con il primo ordine fatto dall'album 5. Dall'album 6, nel frattempo guarda dove è finito il mio prodotto, ho preso ancora un bel po' di robina, un parecchia robina. Allora, l'album 6 era questo e come particolarità l'album 6 promuoveva i prodotti per l'estate, quindi ogni 30 euro di acquisti prodotti solari. C'era in omaggio la borsa e la trousse, che ora vi farò vedere, e in più, da catalogo, cos'altro c'era di interessante? C'erano un sacco di offertine, vabbè, detto ciò vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso due acque micellari, io ogni tanto sembra che scompaio, no? Aspettate che cerco di raddrizzarvi, vabbè, non so se siete dritti. Ho preso due acque micellari idra vegetal, che mi piacciono tantissimo, acqua micellare struccante 2 in 1, ed è quella classica per pelli normali. Devo dire che alla fine è la mia preferita, voi vi siete capottati, scusate raga. Questo coso di Wish per tenere il telefono, ma porca, è di una miseria, scusate. Niente, se siete storti non fateci caso, è colpa, guardate, è colpa del coso di Wish, devo stare così tipo per fare i video. Che urto, vabbè, niente, proverò a raddrizzarvi un ciccinino. Ok, ora forse ci siamo, raga. Quindi, dicevo, queste alla fine sono le acque micellari che mi piacciono di più, tra tutte. Poi, ho preso altri prodotti per capelli, giusto perché non ne ho in casa, ho l'armadietto pieno, però io sono un'invasata. E ho preso lo shampoo purificante e uno shampoo antiforfora, che è questo qua. Mi direte, perché ho preso l'antiforfora? Perché, come mi era successo qualche anno fa, mi è tornata durante la quarantena un pizzico di forfora solo sulla frangia. Io non capisco perché. Probabilmente perché io la lavo tutti i santissimi giorni, quindi anche grattando con la spazzola per farmi la frangia, probabilmente mi sto scorticando la cute. Quindi ho preso, appunto, anche l'antiforfora, che lo utilizzerò soprattutto per la frangia. Poi, cosa ho acquistato? Ho acquistato un altro prodottino per il periodo estivo, ovvero il solare corpo e capelli, l'olio protettivo corpo e capelli. Io lo darò soprattutto sui capelli, questo, perché per il corpo ho la crema, quindi l'olio non lo utilizzo sul corpo, però sui capelli assolutamente sì, quindi è topissimo. E poi cosa ho preso della linea solare? Visto che gli abbronzanti, il latte solare, l'avevo già acquistato, ho preso due dopo sole. Ho preso quello classico al mono, il latte idratante tra in uno, che è lui, e anche quello per il viso. Quindi questo qua è il trattamento sublimatore anti-età e anti-macchie per il viso, sempre, appunto, da dare dopo sole, perché io assolutamente ci tengo la mia pelle e voglio mantenerla giovane. Contate, raga, che quest'anno sono 38. Poi, appunto, perché voglio rimanere giovane, ho preso un'altra crema anti-rughe. Siccome la mia sta terminando, ne ho pochina, ho preso quella della linea Lifting Vegetal. Già che utilizzo la crema giorno, Lifting Vegetal, ho detto, perché no, prendiamo anche il trattamento fortificante notte con collagene vegetale. E quindi, eccola qua, che non vedo l'ora di iniziarla. Poi, visto che da catalogo, come presentatrice Yves Rocher, avevo superato una bella soglia, perché avevo parecchi ordini, visto il periodo estivo in arrivo, allora Yves Rocher mi ha mandato dei prodottini da testare. E sono questi tre nuovi prodottini, ovvero, tre bagno doccia, il gel doccia concentrato, praticamente questo qui è la versione concentrata di quelli grandi di questi. Quindi fate lo stesso tipo di doccia, la stessa quantità di doccia, ma ovviamente il prodotto è piccolino, perché è da 100 ml invece che 400. e quindi ho quello al mango, quello alla vaniglia e quello all'olio d'oliva. Non vedo l'ora di provarli. Io sono un'invasata di bagno doccia. Poi, dopo avervi fatto vedere questo, ah, ok, vi devo far vedere ancora questa, che è la maschera per capelli due in uno, per capelli danneggiati. Questa qua si può utilizzare sia pre-shampoo, sia post-shampoo e poi va risciacquata. Quindi anche questa qua la proverò senz'altro. e già che ci sono vi faccio vedere anche gli omaggini, appunto, per chi aveva acquistato i prodotti solari, superando i 30 euro di acquisto. In omaggio c'era la trousse, quindi la pochettina, diciamo. Tra le altre cose è carinissima. E dentro è tutta plastificata, quindi mantiene la roba bella fresca, che è una cosa figa. E poi ho preso, no, e poi c'era anche la borsa mare, diciamo. Per me è un po' piccolina, perché, devo dire la verità, io mi porto il mondo, al mare. Però per chi magari, appunto, ha un pochino meno roba da portarsi a presso, io mi porto anche il salvagente, quello fatta giubbino, quindi, cioè, io ho troppe cose a portare. Però per chi non ha il salvagente da portare, questa può andar bene, ed è carinissima. Comunque ho apprezzato un sacco il regalino di Brochet, visto che spendo come una banca, direi che ci stava. Bene, detto ciò, metto via tutti i miei mille mila prodotti, vi mando, come al solito, un bacione gigantesco, e se non mi impappinavo non ero io. Fatemi sapere se vi piace il nuovo look, il nuovo colore, su Instagram lo vedete sicuramente meglio, perché appunto, in fotocamera sembra molto più rosso di quello che è, ma è molto più chiaro, raga. E niente, vi mando un bacione grande, e come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!